Quella sera la vidi, e non mi dispiacque, ma le ebbi a dire pochissime parole, e non mi ci fermai col pensiero. Il venerdì le dissi freddamente due parole prima del pranzo. Pranzammo insieme, io taciturno al mio solito, tenendole sempre gli occhi sopra, ma con un freddo e curioso diletto di mirare un volto piuttosto bello, alquanto maggiore che se avessi contemplato una bella pittura. Mi posi in letto, considerando i sentimenti del mio cuore, che in sostanza erano inquietudine indistinta, scontento, malinconia, qualche dolcezza, molto affetto, e desiderio non sapeva, né so di che, né anche fra le cose possibili, vedo niente che mi possa appagare. Se questo è amore, che io non so, questa è la prima volta che io lo provo, in età da farci sopra qualche considerazione. Ed eccomi di diciannove anni e mezzo innamorato.